Il reparto di terapia intensiva neonatale e neonatologia dell'ospedale San Donato di Arezzo apre le porte al progetto di musicoterapia. Sempre più studi evidenziano come la musica sia un efficace strumento per migliorare il benessere del neonato in ospedale, ma anche dei genitori che lo assistono. Da qui l'iniziativa promossa dal Comitato Aretino Neonatologia Ollus che ha finanziato il progetto. Da questo mese i prematuri e i neonati ricoverati assieme alle loro famiglie possono partecipare a sedute di musicoterapia tenute da Gianni Cipriani, presidente dell'Associazione Professionale Toscana di Musicoterapia Dinamica, con l'aiuto di alcuni strumenti musicali in tona a dolci melodie. Il progetto avrà una durata di 12 mesi e fa parte di uno studio pilota approvato dal Comitato Etico Locale con l'obiettivo di valutare l'efficacia dell'intervento musicoterapeutico nel contesto della prematurità e della patologia.